Ciao Guido, ciao Yolanda, come mai avete scelto i Senzatempo Live per il vostro matrimonio? Perché volevamo una gestione del nostro matrimonio, il divertimento è gestito con eleganza e Senzatempo sono stati impeccabili davvero, ci hanno tenuto proprio contento. Sono stati impeccabili in tutto, da inizio alla fine, hanno iniziato a metodo gli ospiti, ci siamo divertiti. Sono rimasti tutti, tutti contenti, cioè in realtà l'intervista la dovevi fare a tutti gli ospiti perché tutti ti rilasciavano una recensione fantastica. E Giovanni ha partecipato anche alla mia serenata prematrimoniale. Fatela, fatela a tutti. Da cosenza mandatoria sono rimasto molto soddisfatto per tutto, per tutto. Anche con la fisarmonica, bravissimo, bravissimo in tutto. Bravissima la cantante, bravissimo lui. In chiesa, complimenti. Impeccabili in tutto. Quindi siete rimasti soddisfatti da questa scelta? Molto soddisfatti. Assolutamente sì. Consigliereste Senzatempo ad altre coppie? Grazie a tutti, a tutti, amici, parenti e tutti quelli che si devono sposare. Agurio e un bocca al lupo. Grazie. Grazie. Ciao. Ciao.